buongiorno buongiorno cagazzi allora faccio questo video che non era in programma è una pepituzza fuori programma perché in tanti insomma mi state chiedendo dici qualcosa su conte sulle dichiarazioni di conte dici cosa ne pensi dici cosa è successo volevo parlarne domani nel punto del campionato ma alla fine va bene anticipare il tema ad oggi tanto prima di stasera partita non ce ne sono quindi abbiamo il tempo per parlarne allora conte ieri ha fatto delle dichiarazioni ormai credo che le conosciate tutti sulla falsa riga un po di quello che aveva detto dopo la partita col parma dicendo che ha fatto sostanzialmente i complimenti alla squadra o meglio non alla squadra a quelli che lui fa giocare praticamente e ha lanciato dei messaggi nuovamente alla società dicendo che la coperta è corta che la rosa così è corta che si fa fatica che visti gli impegni ravvicinati è difficile affrontare un campionato in questa maniera allora va detto una cosa che a parte le differenze d'orario di qualche ora sui calendari anche napoli atalanta juventus sanno impegni champions ravvicinati così come la lazio e la roma che fanno l'europa league che non è meno dispendiosa il problema qual è secondo me io sto iniziando a rafforzare una teoria a cui già stavo pensando quest'estate che è una mia opinione personale su cui chiedo anche il vostro parere secondo me marotta ha fortemente voluto conte tra i fattori nel cercare di convincerlo a venire a milano oltre all'auto stipendio che il signor conte percepisce dalla società c'è stato probabilmente il fatto di dirgli che l'obiettivo dell'inter era quello di se non di vincere ma comunque di diventare fortemente competitivi fin dal primo anno conte probabilmente quest'estate si era fatto durante la trattativa per approdare all'inter si era fatto un'idea diversa rispetto a quello che è il gradualismo anche comprensibile della dirigenza dell'inter che dice sì puntiamo a fare un percorso di evidente crescita e di aumento della nostra competitività ma non certo facendo tutto il primo anno ma in un percorso magari di due tre anni capito cioè di arrivare a essere al livello della juve o quasi non in un'estate ma nel giro di due tre anni che va da sé una cosa assolutamente condivisibile perché a me conte dà sempre l'idea di ragionare come se vivesse in un calcio di 20 30 anni fa in cui un'estate un presidente si svegliava aveva magari non lo so la juve l'inter davanti che avevano comprato avevano fatto l'estate comprando i fuori classe questo qui 20 30 anni fa si svegliava e diceva ma sì quest'estate voglio vincere anch'io lo scudetto scavallava 300 milioni di euro sul mercato in pochi mesi almeno sulla carta ti arrivava a colmare il gap di quelle squadre lì non è più così non è più così se non per grandissimi club che hanno un fatturato talmente alto da poter permettersi di scavallare sul mercato qualsiasi tipo di cifra senza problema sono pochi il calcio di oggi è un calcio progettuale è un calcio graduale è un calcio in cui contano molto le situazioni da cui arrivi il tuo processo di crescita processo di crescita che all'inter non è assolutamente rimproverabile perché la società zang ha preso l'inter in una situazione molto complessa ne è uscita tutto sommato in pochi anni in poco tempo ok aumentando i ricavi aumentando il fatturato costruendo squadre competitive e adesso col giusto gradualismo e con dei passi condivisibili sta cercando di ridurre il gap cosa non facile perché oltretutto non è che davanti hai una squadra che è lì per caso non è che la juve è prima per caso per cioè non è prima per fatturato per forza per potenza per caso la juve è sempre stata una potenza calcistica ok in italia la prima si può dire ok a me conte pare che pecchi un po di come posso dire di un'esagerazione nelle pretese non sono convinto che l'inter intesa come società abbia le stesse idee di conti io vedo un conte che vuole vincere a tutti i costi che mette al primo posto quasi più la sua voglia di vincere o di rivincere di rivincita rispetto a quello che è non dico il bene dell'inter ma rispetto a quello che dovrebbe essere un cammino naturale senza strappi dell'inter ok io non posso credere che un giocatore come politano che è stato nei due anni scorsi quasi essenziale per l'inter che è ereduce da un percorso di ottima crescita ricordiamoci anche che è discretamente giovane e venga derubricato così a un giocatore da politano o meglio il l'utilizzo la situazione di politano è il ritratto di questo strappo più che più che quella di borca che pure è una gestione che io non condivido ma almeno lì dice stiamo parlando di un giocatore piuttosto anziano che può aver fatto il suo tempo ma il ritratto vero e proprio di questa crasi come disse l'altra volta tra la situazione naturale dell'inter e quello che vorrebbe conte è la situazione di politano un giocatore riscattato quest'estate per quanti 20 milioni una cifra del genere che è stato utilissimo all'inter di spalletti derubricato a riserva da far entrare solo in caso di emergenza e via dicendo qui si nota proprio la differenza di prospettiva e di voglia di un allenatore che probabilmente al primo anno pretendeva di avere una rosa già super competitiva o che forse gli erano state fatte delle delle promesse ma neanche delle promesse magari lo si era passatemi in termini illuso di di quando eravamo magari ancora maggio giugno di dire massiva è tranquillo che quest'estate facciamo fuoco e fiamme vai tranquillo che se chiedi i giocatori non ci sarà nessun problema pur di averlo all'inter e poi e poi magari una volta arrivato all'inter la situazione era fisiologicamente diversa ed ecco il perché di quella frase detta ieri cioè stando all'inter sto capendo più cose oggi di quante di quante ne capissi a giugno e rimando a giugno secondo me non è casuale però qui secondo me c'è anche un'esagerazione di conte a parte che tutte queste lamentele stanno diventando penso io anche brutte per un tifoso dell'inter perché se da un certo punto di vista emozionalmente un tifoso dell'inter può anche dire caspita ragione conte lui può essere un utile cuneo per andare a far spendere di più la società io da da tifoso interista non gradirei la sufficienza con la quale viene trattata non solo la rosa a disposizione con cui addirittura non si arriva neanche a fare il terzo cambio in partita ma anche una società che comunque sul mercato si è impegnata una società che non ha secondo me dato in mano all'allenatore una rosa eccessivamente corta ma soprattutto questa sufficienza con la quale per l'appunto si va a definire una squadra che invece come le altre può avere i suoi punti di forza può avere le sue riserve che non sono all'altezza dei titolari ma neanche il napoli ha delle riserve che non sono all'altezza dei titolari neanche la juve probabilmente ha delle riserve che sono all'altezza dei titolari perché non possiamo dire che un betancur regista dal dia le stesse garanzie di un pianic per esempio non possiamo dire che un demiral dia le stesse garanzie di chiellini neanche un delict ad oggi per esempio cioè mi sembra che si stia ragionando da parte di conte con troppo con un semplicismo non adatto a questo calcio qua e che può anche fare del male alla rosa dell'inter intesa come quello che lui ha ereditato quest'estate ok è giusto anche pretendere di avere dei rinforzi sul mercato è giusto anche puntare a migliorarsi continuativamente secondo me è un po esagerato farlo dopo comunque una campagna acquisti buona ed è esagerato farlo soprattutto ed è sbagliato farlo secondo me non valorizzando dei giocatori che comunque hai che rappresentano un patrimonio perché non dimentichiamoci cosa ha speso l'inter per vessino cosa ha speso l'inter per politano ancora quest'estate cioè sono tutti giocatori voglio dire che poi con cui dovrai fare i conti anche economicamente quindi rischia di diventare un problema un po per l'inter e poi vi ripeto anche le tempistiche capisco se questo o meglio non sarebbe neanche condivisibile tutta questa questa mezza polemica sulla rosa sulla lunghezza a mercato in corso però dico almeno me la fai a gennaio che voglio dire è un segnale fatto in un periodo nel quale comunque la società può intervenire ha un senso ma me lo fai ad halloween cioè neanche volendo puoi voglio dire intervenire sulla rosa cioè se se iniziamo ad halloween a fare questi discorsi voglio vedere appena non lo so l'inter pareggio magari entra in una situazione di 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 difficoltà di risultati a novembre cosa succede arrivano le dimissioni cioè non lo so mi pare un po probabilmente anche molti possono dire è una tattica per sviare l'attenzione dalla squadra però non è una cosa che secondo me lascia tranquilla la squadra e soprattutto che non lascia tranquille le riserve che crea una spaccatura netta tra quello che è il gruppo titolare e quello che sono il gruppo delle riserve questo secondo me un po un po capita perché poi ditemi voi che fiducia può sentire un po litano magari anche gente giovane che avrebbe bisogno magari di un allenatore capace di 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 dare un po di più di sprone ecco io chiudendo posso dirvi che il punto di forza dell'inter quest'anno è conte per certi versi può essere anche un punto di debolezza perché non mi piacciono molto mediaticamente queste pretese oltretutto poi ragioniamo su un'altra cosa quando ho detto l'altra volta ho fatto il video ho detto circa le stesse cose e uno mi fa ma conte non si lamenta della qualità conte non è che vuole vuole i fuori classe vuole una rosa più ampia però nel momento in cui tu non fai giocare delle riserve che pure possono giocare perché come molti dicono non le ritieni all'altezza il tuo ragionamento è anche sulla qualità e qui andiamo in un altro discorso che a me sta un po sulle scatole c'è questa continua pretesa di avere i fuori classe e di vincere o di fare bene solo con i fuori classe perché lì sconfiniamo in un terreno nel quale uno può dirti così sono capaci a vincere tutti e allora cosa mi serve dare 12 milioni all'anno ad un allenatore che pretende di vincere solo con i grandi campioni gliene do 6 7 a 1 normale che magari i campioni mi vince pure lui cioè mi sembra un po che conte voglia costruirsi una situazione molto facile comprensibilmente anche per carità nessuno di noi ricerca la la difficoltà però una situazione molto facile che rischia di cozzare come dicono i bagliazzi con la situazione dell'inter attuale economica societaria programmatica e via dicendo e questo secondo me è il rischio principale sarebbe interessante vedere come è andata la trattativa per l'approdo di conte a milano con marotta quello mi interesserebbe vedere mi interesserebbe sapere cosa marotta ha detto a conte nell'atto di convincerlo a venire a milano perché per me lì c'è qualcosa da registrare ditemi cosa ne pensate un caro saluto